Salve, salve a tutti, Claudio Collevecchio per voi, a casa, aspettando che passi più in fretta possibile questo brutto periodo della nostra storia. Sono purtroppo, come la maggior parte di noi, inoperoso, perché non si può far nulla nel mio settore, soprattutto nel cinema, i set sono tutti chiusi. Comunque ci stiamo preparando per i lavori futuri che avverranno almeno quest'autunno. Come possiamo passare il tempo? Ci sono tante cose da fare. Uno potrebbe essere, per esempio, per divertirsi, rifare una scena di un film. Ecco, moglie e marito magari che rifanno una scena di Pretty Woman, oppure che so, due amici che si incontrano a un bar e litigano per una donna. Sono tanti i film da poter riprendere, poterli rifare e divertirsi in famiglia così. Giusto per ringannare un attimino il tempo, perché la cosa più importante è quello, che il tempo passi in una maniera o nell'altra. Intanto vi lascio un abbraccio e finirà tutto bene, ne sono sicuro. Un abbraccio a tutti.